E non è possibile bloccare un investimento di 250 milioni di euro? Non ho partecipato perché ho reputato quell'iniziativa di parte, io penso che sia necessario condividerle. Il sindaco di Fano Massimo Seri risponde a coloro che hanno contestato la sua assenza sabato scorso al sitino organizzato da Ricci di fronte all'ospedale di Muraglia. È importante manifestare e prendere una posizione sulla sanità, ha spiegato il primo cittadino, ma la pandemia e le dichiarazioni del governo regionale di centrodestra ci portano a fare nuove riflessioni guardando le problematiche dell'intero territorio. Sono convinto che la forza la dà anche l'unione e il condividere le strategie. Quando questo non avviene bisogna dare anche qualche segnale. La mia non presenza aveva questo senso, non è una divisione con una forza politica o meno, ma c'è un'esigenza di rafforzare i rapporti tra le stesse due città Fano-Pesaro, ma anche tra il territorio della costa e dell'entrotere. Quando parliamo di sanità, prosegue Seri, dobbiamo essere coesi e fare un ragionamento complessivo. Ritengo anche che la prima iniziativa vera che coinvolga tutti debba essere la convocazione dell'assemblea di aria vasta dei sindaci, perché in quel momento ci si confronta e si parla a 360 gradi. Manifesto anche una preoccupazione vera, perché non vorrei che da una parte si spinga per realizzare una struttura, dall'altra si spinge per annullare determinati percorsi e va a finire questo territorio, quello che rimane stretto nella morsa. Perché qui c'è un'esigenza di recuperare anche del terreno perduto, un ruolo che è questo territorio. Quando parlo di Fano, non parlo di Fano-Città, ma parlo delle due vallate. Invece, sullo strappo con il Partito Democratico, su cui si è discusso, in questi giorni arriva la smentita del sindaco. Non c'è una divisione di intenti all'interno della maggioranza, sono più i titoli giornalistici. C'è chiaro che abbiamo avuto delle sfumature diverse sull'intendimento di come organizzare determinati momenti.